buonasera a tutti siamo qua al tavola terina per il beretta excellence 75 piattelli intervistiamo subito l'atleta maurizio barbagli un'altra volta sì 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 atleta maurizio barbagli ci dica com'è andata la sua prestazione la prima serie balorda perché ho sparato male seconda serie diciamo ne ho trovato il verso e la terza serie 25 sì ma vogliamo i numeri i numeri i numeri 70 22 23 25 poi andiamo dal secondo in classifica atleta milighetti com'è andata la prova non voglio smoccolare dobbiamo censurare dopo c'è la censura un pessimo 67 con 21 23 23 vale a dire non ci ha capito un cazzo 67 poi mi auto intervisto perché ci sono io ho fatto un 21 sbagliando l'ultimo 24 sparando veramente bene l'ultima serie 22 sparando bene e risbagliando l'ultimo piattello ora andiamo qua dal terzo in classifica il nostro mitico atleta roberto martinelli come ha sparato signor martinelli oggi sono partito bene ma poi partito bene con un 25 e dopo un bel paio di 21 perché non abbiamo parlato per volersi male per volersi male oggi radio funziona si oggi si ho fatto la prova prima grazie meglio dopo di che andiamo al quinto classificato si quinto classificato atleta federico rossi che ha fatto com'è andata la gara l'importante non essere l'ultimo si quindi quanto ha chiuso 65 65 con 22 21 22 22 raccattato ci sta ci sta tutto ci sta tutto ci sta tutto ed ora rullo di tamburi andiamo dal mitico atleta brachi brachi attenzione la colpa non è del fucile però è ok com'è andata signor brachi allora la prima serie come tirare le mele a maiali 18 la seconda serie andare a ricattare le mele a maiali 20 e la quarta e la terza serie ho fatto un bel 24 però il problema ti sei ricordato come si spara l'ultima serie è vero purtroppo le mele a maiali le tiro spesso ultimamente e dobbiamo fare una postilla in settimana è venuta anche a provare i campi ha fatto 25 la prima 24 la seconda poi 21 si proietterà stanco dal lavoro quindi ci poteva stare un 21 ci vediamo domani che domani ci aspettano grandi emozioni la mattina spariamo sempre alberetta excellence a vetralla e il pomeriggio a todi al campionato italiano che dite ci vediamo